Oggi parliamo di Costituzione di legge elettorale col professor Mauro Volpi, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università Statale di Perugia. Parliamo della revisione della Costituzione presa per iniziativa del governo da Renzi e da Boschi e del cosiddetto Italicum, sempre una revisione della legge elettorale sempre voluta da questo governo. La prima domanda che faccio al professor Volpi è molto semplice. Un Parlamento che ha una maggioranza che è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza numero 1 del 2014 da parte della Corte Costituzionale è legittimata a modificare le regole democratiche più importanti tra cui la Costituzione e la legge elettorale, secondo lei? Guardi, ci può essere secondo me una legittimità esclusivamente giuridica a fare alcune leggi. Non credo che però ci sia la legittimazione politica che è assolutamente necessaria in questo caso per approvare un'ampia riforma della Costituzione che modifica più di 40 articoli della Costituzione per il semplice fatto che quella riforma viene approvata da una maggioranza, soprattutto alla Camera, che è derogata da un premio di maggioranza dichiarato incostituzionale. E quindi per fare una riforma di quella portata ci vuole un nuovo Parlamento che sia eletto dal popolo e che rifletta gli orientamenti del corpo elettorale. E se invece, ovviamente noi politicamente ci auguriamo di no, ma questo combinato disposto della revisione di questi più di 40 articoli della Costituzione e della legge elettorale dovessero passare, quali sono gli effetti che si arreccherebbero sullo Stato della democrazia e sull'assetto istituzionale del nostro Paese? Beh, gli effetti sarebbero negativi perché avremmo sì il superamento del bicameralismo perfetto, ma con un senaticchio che ha assai poca autorevolezza per la sua composizione, consiglieri regionali e sindaci, con competenze per certi versi eccessive, perché può approvare le leggi costituzionali, per altre limitate, perché la Camera può porre nel nulla le sue decisioni, con solo 100 senatori, mentre i deputati resterebbero 630. Quindi avremo un Parlamento in seduta comune nel quale la maggioranza dell'unico partito garantita artificialmente dal premio di maggioranza dell'Italicum, potrebbe non solo decidere tutte le politiche di governo, avere le leggi a data fissa su semplice richiesta del governo alla maggioranza della Camera, ma potrebbe anche leggere gli organi di garanzia, o comunque avere alte probabilità di prendersi gli organi di garanzia, alcuni giudici costituzionali, il Presidente della Repubblica, i componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura. E non è affatto vero che vengano rafforzati contro poteri, come gli istituti di partecipazione, nei diritti delle minoranze e delle opposizioni, perché tutto è rinviato a future leggi o a modifiche dei regolamenti parlamentari, cioè a modifiche volute dalla maggioranza monopartitica artificiale. Ma a questo punto una domanda viene spontanea. Ci sono esempi in altri paesi europei rispetto a quello che lei ha appena detto? Cioè esiste qualche altro paese che ha una struttura iper maggioritaria come legge elettorale e monocameralismo? Guardi, in realtà non esiste un sistema elettorale come il nostro, almeno nei paesi dell'Unione Europea, nelle democrazie più consolidate, anche più ampie da un punto di vista geografico. Dal punto di vista poi della forma di governo, la grande maggioranza di questi paesi ha delle forme di governo parlamentari, in cui il governo deriva dal Parlamento e può essere sfiduciato dal Parlamento. Esiste un sistema particolare che è quello semipresidenziale francese, in cui c'è il Presidente della Repubblica che ha notevoli poteri, e però il Presidente della Repubblica non ha garantito una maggioranza all'interno dell'Assemblea nazionale. Può esserci una maggioranza opposta ai suoi orientamenti politici, e quindi a quel punto c'è quello che i francesi chiamano la coabitazione, che diventa alla fine un elemento di garanzia, cosa che invece in Italia non ci sarebbe perché avremmo un Presidente del Consiglio plebiscitato dal popolo con una maggioranza monopartitica sostanzialmente votata dal popolo, che quindi avrebbe in mano il governo, il Parlamento, e quindi sarebbe libero di decidere quello che vuole. In questa revisione, professore, il nuovo Senato sarà composto da consiglieri comunali per la maggior parte, consiglieri regionali per la maggior parte, ma anche da sindaci. Tra l'altro figure che acquisiranno l'immunità parlamentare quando dal luogo in cui assovano la funzione amministrativa vengono come dopolavoro a Roma al Senato. Secondo lei è normale aver dato l'immunità parlamentare a queste figure? Secondo me no, è normale avergli dato l'insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati, ma l'immunità penale è assolutamente ingiustificata, perché richiede un'autorizzazione per procedere agli arresti a misure limitative della libertà personale come le intercettazioni telefoniche. E questo li coprirebbe anche per i reati che abbiano eventualmente commessi come consiglieri regionali e come sindaci. E siccome ci sono casi quasi quotidiani in cui esponenti di partiti, anche quelli di maggioranza relativa, consiglieri regionali, sindaci, sono coinvolti in prima persona, questo diventa effettivamente un privilegio che agli occhi dei cittadini è intollerabile. E soprattutto è intollerabile agli occhi dei cittadini che non sanno loro a eleggere i senatori. Secondo lei, professore, laddove non dovesse passare questa revisione della Costituzione sarà il diluvio, come ha affermato il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ma anche ribadito l'ex Presidente Merito della Repubblica Giorgio Napolitano? Io credo che questa sia una forma di terrorismo psicologico di massa per convincere una parte degli elettori a votare sì. O questo, oppure dopo di me il diluvio. Io non credo affatto che sarà così. Io credo che saranno possibili invece revisioni della Costituzione da parte di un nuovo Parlamento neoeletto che siano più meditate e siano basate su un più ampio consenso perché la Costituzione e la riforma della Costituzione non può essere una cosa del governo, di una maggioranza politica contingente, deve essere cosa della più gran parte dei parlamentari perché deve essere la casa comune, deve contenere i principi e le regole fondamentali che sono accettate da tutti. Benissimo, ringraziamo a nome di tutto il Movimento 5 Stelle il Professor Mauro Volpi per le risposte che ci ha dato e vi continueremo ad informare su quello che è un passaggio fondamentale di quest'anno e di questa legislatura che è la revisione della Costituzione. Grazie.